Pensiero del giorno. Stravolgo le mie abitudini e cerco modi insoliti per passare il tempo. Provo nuovi metodi e approcci e scopro nuove maniere di vivere. Lascio andare il vecchio e accolgo il nuovo. Stravolgi le tue abitudini. Sebbene le abitudini siano rassicuranti, possono anche impedirti di vedere la verità della vita. Gli schemi abituali appannano i sensi nei confronti di ciò che è fuori dal comune. Risveglia la tua consapevolezza e sentiti più vivo rivoluzionando le tue attività abituali. Oggi divertiti a cambiare le cose in modo creativo. Cambia la tua solita tabella di marcia, le tue normali abitudini alimentari e i tuoi consueti comportamenti e fai le cose in modi nuovi. Potresti sentirti impacciato sperimentando qualcosa di diverso, ma proverai anche l'euforia di esplorare nuove modi di vivere. Probabilmente ritornerai ad alcune dalle tue rassicuranti abitudini, ma forse vi inserirai anche qualche nuovo approccio. In altre parole, attraverso il processo di sperimentazione puoi scoprire nuovi meravigliosi modi di vivere. Una ragione per cui le vacanze e le ferie sono così tonificanti è che comportano l'esportazione di nuovi luoghi, persone, cibi e attività di svago. Puoi ricreare questa stessa energia cambiando le cose adesso.